election day ancona attende il nuovo sindaco infortunio sul lavoro al teatro di bottega grave 26enne inaugurata la casa dell'autonomia alla disabilità da tornatore a verdone mostra del cinema di pesaro da oscar riprova cvl stasera a milano gara 2 dei playoff una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di lunedì 15 maggio apriamo andando oltre i confini della provincia di pesaro orbino perché questa è giornata di lezioni amministrative in quasi 600 comuni italiani in 15 comuni marchigiani nessuno dei quali del pesarese però si vota si è votato a ancona per eleggere il nuovo sindaco ancona che anche l'unico capoluogo italiano al voto in questa tornata elettorale alle 15 si sono chiuse le urne che hanno visto un'affluenza delle marche al 57 per cento in calo rispetto al 58,5 di un anno fa ancora più basso il dato d'ancona con un'affluenza del 54,95 per cento è attualmente in corso lo spoglio dei voti per capire chi sarà il nuovo sindaco del capoluogo fra daniele silvetti della coalizione di centrodestra ida simonella di quella del centro sinistra enrico sparapani per il movimento 5 stelle ruberto rubegni dei verdi francesco rubino per sinistra e marco battino per ripartiamo dai giovani ed ora lasciamo la politica per passare alla cronaca e purtroppo darvi una brutta notizia che ci arriva da vallefoglia dove questa mattina c'è stato un grave infortunio sul lavoro attorno alle 11.30 nel cantiere che vede la realizzazione in corso del nuovo teatro di bottega qui un 26enne operaio edile residente a rio salso è precipitato per causa in via d'accertamento dal secondo piano nel vuoto dell'androne interno al cantiere per circa 8 metri le condizioni del ragazzo sono parse subito gravi tant'è che è stata allertata l'eleambulanza che è intervenuta trasferendo il ferito all'ospedale torrette di ancona sul posto anche carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso pesaro vissuto oggi un lunedì soleggiato dopo il maltempo degli ultimi giorni che hanno portato nella giornata odierna a concentrare nella zona di borgo santamerea e case bruciate i lavori previsti da marche multiservizi a supporto del comune per intervenire su allagamenti e danni provocati dalla violenta pioggia e grandine di venerdì mezzi autospurgo sono infatti all'opera per la pulizia di caditoi e fognature al fine di ripristinare le condizioni ottimali per evitare ulteriori allagamenti in occasione delle prossime piogge per quanto riguarda la pulizia delle strade invece dopo gli interventi di sabato e domenica nel quartiere pantano oggi le spazzatrici hanno effettuato un secondo passaggio in zona mare nei dintorni di viale 30 e viale trieste per rimuovere soprattutto le foglie cadute colpite dalla grandine marche multiservizio ha continuato a lavorare per tutto il fine settimana con le squadre di pronto intervento e incrementando il numero di mezzi operativi ed ora cambiamo argomento ci occupiamo di welfare perché questa mattina il comune di pesero ha inaugurato in via buozzi un'abitazione dedicata a supportare le disabilità in una maniera che andiamo a scoprire nel servizio realizzato da gaia morri taglio del nastro questa mattina in via buozzi per una nuova casa dedicata al progetto dopo di noi in cui il comune di pesero e associazioni del terzo settore intensificano il loro supporto all'autonomia dei portatori di disabilità la casa è al sesto piano ed è situata in un punto strategico della città a due passi dal centro e dal mare ed è dotata di ascensore per dare la possibilità di raggiungerla anche in sedia d'hotel beh oggi inauguriamo un nuovo appartamento per il dopo di noi il dopo di noi un progetto che ha quasi dieci anni sul nostro territorio è un progetto di vita e autonomia delle persone con disabilità che coinvolge ovviamente sia le persone interessate le loro famiglie è un progetto al quale noi crediamo molto perché ecco costruisce un percorso di autonomia in un ambiente che è un ambiente familiare ed è un lavoro che stiamo facendo da anni insieme all'associazione dei genitori alla fondazione noi domani aia 741 labirinto e insieme e tutti i soggetti che hanno creduto sin dall'inizio a questo progetto oggi inauguriamo una nuova realtà in prospettiva abbiamo il pnr che prevede altri 12 posti per riampliare quello che è una domanda forte del territorio è legato al fatto spesso che le famiglie invecchiano e quindi i ragazzi che primano ragazzi hanno bisogno di trovare degli spazi anche autonomi la legge del dopo di noi si pone un quesito cioè la persona disabile che vive in casa nel momento in cui la famiglia non può più per età per problemi sovraggiunti gestire una persona appunto disabile questa persona in genere va a finire negli istituti quindi con costi anche alti ma soprattutto appartamenti come questi lanciano un messaggio di una cultura che è la cultura che le persone hanno anche disabili hanno delle risorse forti grandi e quindi anche un loro diritto vivere in autonomia e poter continuare a vivere in un appartamento proprio i protagonisti di questa casa saranno tre coinquilini affetti da gravi disabilità che potranno sperimentare l'avventura di avere una casa propria e soprattutto di vivere la propria indipendenza a fianco di operatori specializzati che vivranno insieme a loro sono ragazzi comunque con la legge 112 del 2016 sul dopo di noi hanno la 104 in gravità e vorremmo col pnr ampliare questi progetti anche a persone disabili più lievi che in questo progetto appunto non riescono ad accedere quindi diciamo che noi ci piace avere vedere una sfida a lungo termine come fondazione noi domani ci occupiamo di autonomia dagli 0 ai 99 anni quindi da quando escono al percorso scolastico provare a sperimentare la vita autonoma per poi andare a vivere da soli perché no con degli amici così come fanno gli altri ragazzi alla giornata si svolge veramente in maniera rutinare come avviene nella qualsiasi altra giornata del nostra i ragazzi si svegliano vengono aiutati da una badante convivente che vive con loro vanno ai centri diurni chi ancora lo frequenta perché altri sono in fase di dimissione rientrano dal centro tutti i giorni c'è del personale educativo per due o tre ore al giorno e poi alla sera torna il personale ausiliario quindi a dare una mano per la preparazione della cena la messa a letto il giorno dopo si ricomincia le festività e tutto quello che riguarda la pasqua natale compleanni viene effettivamente vissuto come in famiglia quindi c'è chi alla domenica torna casa dalla sorella o dalla mamma se ancora in vita per passare la giornata chi invece preferisce stare in casa perché appunto è casa sua e magari viceversa invita i suoi parenti qui a passare la domenica insieme. Per Pesaro che si avvicina al 2024 anno della capitale della cultura ha senz'altro un posto centrale la mostra internazionale del nuovo cinema che la rassegna più longeva della città con la sua 59esima edizione che arriverà a giugno e verso la quale oggi sono stati annunciati grandi ospiti. I premi Oscar Giuseppe Tornatore e Dante Ferretti, l'apertura con Flashdance e poi ancora un'icona della commedia nazionale come Carlo Verdone. Emergono prepotenti le succose anticipazioni del programma della 59esima edizione della mostra del cinema internazionale di Pesaro che si terrà dal 17 al 24 giugno e che avrà anche tre film italiani in anteprima mondiale, darà spazio al cinema sperimentale argentino e a quello di due registe internazionali come la tedesca Milena Ghirke e l'anglopalestinese Rosalind Nashashibi. Dopo Liliana Cavani e Mario Martone l'evento speciale sul cinema italiano dedicherà quest'anno la sua attenzione al premio Oscar Giuseppe Tornatore. Verranno dunque presentati tutti i suoi film tra cui Ennio, straordinario documento su Morricone e Nuovo Cinema Paradiso nella versione restaurata che sarà anche il film di chiusura del festival dopo che l'apertura sarà dedicata al film culto degli anni 80 Flashdance a 40 anni dall'uscita nelle sale. Altro grande protagonista sarà Dante Ferretti scenografo premio Oscar che accompagnerà a Pesaro la presentazione della sua autobiografia. E poi ci sarà Carlo Verdone, raccontare al pubblico la sua straordinaria carriera e presenterà Borotalco che lo scorso anno ha compiuto 40 anni e in cui per la prima volta interpreta un protagonista tutto tondo. Riflettori puntati anche su tre film italiani che saranno presentati in anteprima mondiale a Pesaro. Il documentario Bellezza Dio di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, Cocorico Tapes firmato da Francesco Tavella e Non credo in niente di Alessandro Marzullo. Nomi ed eventi a corredo del concorso internazionale del festival diretto da Pedro Armocida, aperto come sempre a tutti i formati e a tutti i registi senza barriere d'età, durata o genere. Si rafforza il legame fra Pesaro e la Georgia. Oggi il vice sindaco Daniele Vimini ha accolto in municipio l'ambasciatore Costantino Surgulazze in visita a Pesaro insieme al primo consigliere per gli affari culturali David Gomarteli e al direttore del centro culturale di Batumi, Iracli Shatpatva, accompagnati dalla direttrice dell'Accademia di Canto Lirico Renata Tebaldi e Mario Del Monaco, Nino Lezzava. Rapporti che erano già stretti da anni fra Pesaro e la città di Batumi e che ora si intensificano grazie alla proposta dell'ambasciatore Giorgiano di ufficializzare un gemellaggio fra le due città. Una proposta che ha già il gradimento di Pesaro con Vimini che ha avviato il percorso di una lettera di intenti in tal senso. Mancano poco più di due settimane alla ventunesima edizione del brodetto Fest di Fano che sta acquisendo una dimensione sempre più internazionale. Non a caso la rassegna targata con Fesercenti e la stessa città di Fano si sono messe in mostra nella vetrina di Londra. Prima Barcellona, ora Londra, a breve la Germania. Ha una vocazione promozionale sempre più internazionale il brodetto Fest che si terrà a Fano dal primo al 4 giugno con una ventunesima edizione presentata nel weekend all'Istituto Italiano di Cultura di Londra. Un passo importante rivolto verso una promozione oltremanica del Festival Fanese, della pesca e della marineria adriatica e di Fano come destinazione turistica anche in vista del nuovo volo Ancona-Londra Getwick che partirà a luglio. Siamo qui per parlare con gli importatori, per parlare con le agenzie del turismo, per parlare con i tour operator. Siamo qui per parlare con i grandi ristoratori italiani che sono presenti nella città di Londra. Lo abbiamo fatto presentando oggi il nostro festival che dal primo al 4 giugno sarà presente all'Ido di Fano. Lo abbiamo fatto oggi all'ambasciata italiana al Centro Italiano di Cultura e questo credo che sia la miglior gratificazione che può avere il nostro festival dopo 21 anni di lavoro e 21 anni di promozione del nostro territorio e della nostra marineria. Abbiamo fatto due presentazioni importanti, la prima insieme a 150 ristoratori, grossisti, gastronomi di Londra ai quali abbiamo fatto assaggiare i nostri prodotti, il tartufo, il metauro ed ovviamente il brodetto. Oggi qui all'Istituto Italiano di Cultura abbiamo presentato la nostra città, è una bellissima conferenza con giornalisti londinesi, con la stampa locale ed altri interlocutori e stiamo cercando di aprire dei rapporti importanti che possono necessitare la nostra città. Ecco, dobbiamo accelerare, in questo momento stiamo facendo l'11% del turismo estero ma abbiamo grandi potenzialità per attivare appunto degli scambi che sono sia economico-commerciali sia che guardano la nostra destinazione turistica. In generale è un obiettivo importante portato avanti dalle autorità italiane nel Regno Unito quello di cercare di promuovere la qualità, promuovere il territorio italiano in un connubio che di recente è stato esaltato proprio dalla visita qui recente del Presidente del Consiglio Miloni e del Ministro dell'Agricoltura Lolo Brigida. Londra per la nostra produzione agricola, per la pesca, per il vitivinicolo è una piazza davvero molto importante. Qui abbiamo avuto l'opportunità di promuovere un evento che riguarda la pesca, riguarda una zuppa di pesci pregiati che per noi è un simbolo, iconica diciamo così, della nostra attività della pesca. Ovviamente abbiamo bisogno di promuovere grazie a questo prodotto, la nostra terra, questo grande evento che verrà fatto a Fano ma anche la capacità dei nostri produttori agricoli di stare in questo mercato maturo con difficoltà anche oggettive. Quindi sarà un lavoro che comincia da parte del Governo che è già iniziato, anche da parte della Commissione dell'Agricoltura che rappresento di poter confrontare le regole attraverso un rapporto bilaterale in modo che i nostri produttori possano entrare facilmente in questo mercato che fa una domanda di prodotti italiani molto forte. Noi vorremmo rispondere a quella domanda di prodotti. E restiamo a Fano e rimaniamo anche in tema di specialità ittiche che in questo caso si legano alla solidarietà. La catena di ristoranti pesci azzurro con sede appunto a Fano ma anche a Rimini e Senigaglia da dicembre a marzo ha raccolto 5 centesimi a pasto consumato da devolvere in aiuto ai territori alluvionati delle province anconetane e peserese. Il risultato sono stati un assegno di 3.550 euro che il presidente della pesce azzurro S.R.L. Marco Pezzolesi ha consegnato sabato alla protezione civile marchigiana e in particolare al vice commissario Babini e all'assessore regionale Stefano Aguzzi. Si è aperta sabato a Bottega e durerà fino al 14 maggio la 44esima mostra del libro per ragazzi di Vallefoglio. Un evento molto amato dai bambini, dai ragazzi e dalle famiglie che vi approfondiremo in uno speciale che andrà in onda mercoledì 17 maggio alle 20.10 ma che vi anticipiamo ora nel servizio realizzato da Roberta Esperide. Oggi mi trovo a Bottega e per la precisione sono all'interno del palafoglia Sesto On The Day perché sta per partire ufficialmente la 44esima edizione della mostra del libro dei ragazzi. Devo dire una mostra che diventa sempre più importante e più storica per il territorio e in generale per la provincia di Pesaro Urbino. Direi che siamo molto soddisfatti. Entrando in palestra il colpo d'occhio è molto bello insomma ogni anno ci si supera e ci si migliora. Il programma è fatto di vecchie conoscenze quindi di laboratori pomeridiani insomma con Isabella Galeazzi, con Giancarlo Guccioni, con Michela Gaudenzi, insomma conoscenze della mostra del libro. Quest'anno c'è anche qualche novità come la mostra a 0-5 anni di Walter Baruzzi è una mostra itinerante che ha acquistato il comune di Pesaro alcuni anni fa e ce l'ha insomma donata e è stata per questa iniziativa culturale importante. L'altra novità è anche la chiusura, la chiusura con l'associazione culturale Teatro delle Isole con un progetto di recitazione scenico molto importante che tratta gli argomenti della mostra. La mostra si intitola La fabbrica del libro dedicata a Renata Agostoli, abbiamo il piacere e la fortuna di avere la figlia Lucia. Rendendo omaggio a Renata Agostoli, io tra le mie ricerche negli archivi storici della biblioteca ho trovato dei video che erano stati realizzati durante le mostre del libro dell'ex comune di Colbordolo che tra l'altro abbiamo realizzato anche un video che andrà proiettato tutti i giorni durante la mostra. In questo video Renata chiedeva ai bambini sapete che mestiere faccio io e tutti dicevano la scrittrice e lei disse io creo libri e da qui ci è venuta questa idea, la fabbrica del libro perché effettivamente lei creava libri con le sue mani magiche e con le sue forbici magiche e realizzava delle vere e proprie opere d'arte. Il libro rimane un punto di riferimento importante per le nuove generazioni, per il futuro di questo territorio abbiamo collaborato con la mostra del libro di Urbino, con le scuole superiori di peso, con tutti i comuni del comprensorio e partecipare per la prima volta anche alla mostra internazionale del libro di Torino per noi è un punto d'orgoglio. Si è tenuta ieri nella biblioteca Braile di Baia Flaminia l'assemblea regionale dell'Aido nel cinquantesimo anno della fondazione dell'associazione deputata alla sensibilizzazione verso la donazione degli organi. Obiettivo del 2023 un lavoro di squadra volto ad azzerare i no alle donazioni soprattutto in una fascia più delicata come quella dei 50-60 anni. La presidente Aido, Lucia Marinangeli, ha sottolineato come l'impegno sia rivolto con maggiore incisività all'iniziativa di collaborazione con le scuole e con i comuni. Presenti nell'assemblea i vertici provinciali e regionali dell'Aido e anche il delegato nazionale Roberto Ciarimboli. Intervenuti fra gli altri anche il prefetto Emanuela Greco, l'assessore comunale alla solidarietà di Pesaro Luca Pandolfi e i consiglieri regionali Nicola Baiocchi e Andrea Biancani. Questo weekend al Castello Sforzesco di Milano è tornato dopo alcuni anni di stop l'appuntamento con la manifestazione Exploring Bandiera Arancioni e Gradara era presente per raccontare al pubblico le iniziative che caratterizzeranno tutto il 2023 in occasione dell'evento organizzato dal Touring Club Italiano che riunisce i borghi Bandiera Arancione di tutta Italia. Una grande vetrina promozionale per Gradara che ha presentato qui la decima edizione di Assedio al Castello che quest'estate si terrà dal 20 al 23 di luglio. E venerdì 19 maggio alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro con Angelo Branduardi volgerà al termine Playlist la rassegna musicale realizzata dal Comune di Pesaro e da Amat in collaborazione con la Regione Marche. Cantastore e compositore formidabile Branduardi ha fatto la storia della musica in Italia con il suo stile barocco ricco di influenze musicali di luoghi e tempi lontani. Con il concerto Confessioni di un malandrino presenterà una versione particolare dei suoi brani più celebri in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni. E siamo arrivati alla pagina sportiva delle lunedì e in particolare ci occupiamo di basket perché tra poco, questa sera alle 21, scatta gara 2 dei quarti di finale Playoff per la VL impegnata di nuovo al Mediolanum Forum di Milano dopo la netta sconfitta in gara 1 che ha visto prevalere l'Armani con un netto 94-68. Coach Yasmin Repic ha chiamato la squadra a un netto rialzo di cattiveria e attenzione soprattutto sui rimbalzi e sulla concessione dei tiri facili che hanno steso tappeti rossi alla vittoria di Milano. Ricordiamo che giovedì è prevista gara 3 a Pesaro. Sport che proseguiamo con il calcio e con il Fano che ha conquistato la finale Playoff di Serie D dopo aver battuto ieri il Trastevere a Roma con un gol all'ultimo minuto. Fano che ha vinto 2-1 passando in vantaggio con Urbinati al sessantesimo. Il Trastevere ha pareggiato in 10 all'ottantatresimo. E infine il gol partita di Serges al 95esimo che regala al Fano una finale con derby con la Vigors di Gallia. La Vispesor ha invece smesso di giocare ad aprile e dopo la penalizzazione di Limolese e la cancellazione dei play-out da oggi non ci sono più dubbi sulla permanenza in Serie C dei pesaresi visto che sono stati ricettati i ricorsi del Limolese condannando definitivamente la squadra bolognese alla retrocessione e garantendo alla Vis il suo sesto anno consecutivo in terza serie. E la nostra pagina sportiva del lunedì dedica oggi un approfondimento sulle tennis perché ieri il Tennis Club Baratov ha concluso la 35esima edizione del Trofeo Orna Mobile in cui hanno partecipato i migliori talenti Under 10, 12 e 14 di Marche e Romagna. Trofeo Orna Mobile 35esima edizione, il circolo tennis Baratov apre le sue porte a i talenti della zona, della regione Marche ma anche della vicina Romagna. È un torneo riservato alle giovani leve tenistiche e qui trovano lo spazio giusto per confrontarsi e capire chi, anche farci vedere, chi può avere la possibilità di andare oltre. Sono 35 anni di successi ininterrotti e di questo mi sento di dover ringraziare fortemente il nostro sponsor, insomma amico Orna Mobile che da 35 anni ci segue regolarmente e ci supporta in tutto questo. Quest'anno è stata un'edizione un po' particolare perché normalmente questo torneo viene svonto a febbraio ma proprio perché volevamo dare spazio e far vedere a quanta più gente possibile praticamente il valore di questi ragazzi abbiamo pensato di spostarlo praticamente verso maggio in modo tale da farlo all'aperto, open. Giove Pluvio non è stato d'accordo con noi anzi e quindi ci ha costretto praticamente ancora una volta a farlo all'interno dei palloni però nonostante questo insomma mi sento di ringraziare il giudice arbitro i ragazzi che hanno lavorato insieme al giudice arbitro, al direttore di gara perché tutto poi si è svonto nel miglior modo possibile e nel tempo previsto insomma del torneo. Per la prima volta questo torneo praticamente fa parte di un circuito, dallo sono tre tappe, il nostro il primo incontro praticamente è la prima tappa sono tre tappe, una sarà dopo il nostro ci sarà Tolentino e poi il Maggioni di San Benedetto. Il master finale all'interno di questo circuito praticamente verrà fatto al circuito di Porto San Giorgio quindi i ragazzi avranno più occasioni praticamente per incontrarsi per formarsi anche perché poi insomma non solo dalla vittoria ma anche dalla sconfitta spesso nasce praticamente la voglia di rivalza e di competere insomma nel miglior modo possibile. Permettetemi di fare un applauso ai maestri delle varie scuole che hanno partecipato perché quello che è risultato oggi più che mai e vi garantisco che non è sempre così c'è stata una partecipazione assolutamente competitiva al massimo ma correttissima da parte dei ragazzi. Ecco sono tre le categorie coinvolte Under 10, Under 12, Under 14 quanti ragazzi hanno partecipato a questo torneo? Anche quest'anno abbiamo sferato praticamente il centinaio di ragazzi presenti sul campo e di questi ripeto la qualità, credetemi, è stata davvero alta. Sei la vincitrice del torneo Under 12 di questo importantissimo torneo come ti senti e quanto sei felice? Sono molto contenta di aver vinto questo torneo che ho fatto molti sacrifici per fare questo torneo e sono molto contenta. Sono appassionata di tennis perché un giorno ho provato quasi tutti gli sport e l'unico che mi ha colpito era questo cioè con questa racchetta in mano piccolissima che non riuscivo a mandare la palla di là però piano piano ci riuscivo sempre e mi rendeva sempre più felice. Sei iscritto a questo torneo, fai parte del circolo tennis Baratov quanta voglia, quanto desiderio hai di sfondare in questo sport sei ancora piccolo ma il pallino e l'obiettivo di diventare grande in questo sport ce l'hai già? Il mio sogno è diventare il numero uno del mondo e sono molto felice di essere qua in questo torneo e spero di vincerlo. Quanta dedizione, quanto impegno durante la settimana ci vuole per poter arrivare fino in finale? Molto impegno e ti devi allenare seriamente ogni giorno e anche duramente. È un torneo a Pesaro, nelle Marche, tu sei dell'Emilia Romagna però non ci entrano i confini quando lo sport è la cosa più importante e il divertimento è al centro di tutto. Ti amo e piace sempre molto giocare qui a Pesaro infatti gioco qui tornei da quando ho nove anni. E cosa ti spinge a giocare a tennis? Fare il professionista e poi è bellissimo. E la tua aspirazione qual è? Diventare il numero uno al mondo. Baratov Tennis Club è una realtà importantissima a livello territoriale, provinciale, regionale ma possiamo dire anche nazionale? Assolutamente, non solo nazionale ma anche internazionale visto la figura di Luca Nardi che praticamente contraddistingue un po' la nostra scuola, insomma è, come posso dire, la caratterizza da un punto di vista qualitativo. Quello che contraddistingue il nostro essere è anche la scuola, è una top school e nelle marche, credetemi ce ne sono poche, insomma, se non pochissime scuole che possono freggiarsi di questa qualifica. Abbiamo dei maestri validissimi, una serie incredibile di professionisti che lavorano per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi che va dal maestro di tennis fino al preparatore atletico, al mental coach e così via. Che struttura è la vostra? Quanti campi avete? Insomma, che servizi potete offrire? La nostra è una struttura completa, sono sette campi, cinque in terra rossa e due in sintetico. I due in sintetico sono destinati praticamente alla scuola, tennis che gestisce praticamente per conto proprio l'attività, perfettamente gestita dai proprietari della scuola, Francesco Sani che è anche il coach di Luca Nardi e Luca Pavoni che è il direttore della scuola, insomma, in tode insieme appunto a Francesco. Quest'anno direi con piacere, insomma, raggiungiamo la quota di 220 soci e di questo sono particolarmente contento, insomma, e credo e spero che sia ancora un movimento in crescita, insomma, visto anche il movimento stesso del tennis che cresce con tutti questi ragazzi italiani che si fanno apprezzare praticamente nei vari torni internazionali, insomma. Ecco, 220 soci di tutta l'età possiamo dire? Assolutamente sì. I nostri soci più attivi hanno un'età media di 85 anni e non è una battuta. In tennis allunga la vita veramente. E in più tutti i ragazzi della scuola che, come sai, insomma, dai sei anni in poi, insomma, anche prima, frequentano il nostro circolo. Annoveriamo e siamo fieri di avere con noi, sia a livello maschile che a livello femminile, serie A2, quindi due ottime squadre ad alti livelli. In Italia pochi club possono vantare di avere le prime due squadre, sia maschile che femminile, nella massima serie. Il discorso bambini è una cosa importante per dargli, diciamo, continuità e anche dargli un luogo, diciamo, sano. Abbiamo una scuola qui che funziona molto bene e mi auguro che vescano fuori altri campioni come sta uscendo Luca Nardi e tanti altri ragazzi giovani con tanta volontà. E con questo ricco approfondimento sul Tennis Club Bardoff si chiude questa edizione del lunedì di Rossini News. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti proprio di questa serata di lunedì che alle 21.20, come appunto ogni lunedì, prevede l'appuntamento con Check Up Obiettivo Salute, programma che il nostro, Antonio Astuti, realizza in collaborazione con Fisioradi Medical Center. Questa sera parleremo dei disturbi dell'orecchio e lo faremo in compagnia del medico, chirurgo otorino laringoiatra, dottor Giovanni D'Agostino. E a seguire, alle 21.40, torna la nostra Letizia Moretti con Spazio Z. I racconti della generazione Z che ci portano a scoprire sogni, aspirazioni, timori dei giovani pesaresi e in particolare di quelli sportivi. Ci occuperemo infatti della seconda parte delle interviste realizzate con i ragazzi della Montesi Volley. E poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia come sempre dal lunedì al sabato. E si chiude qui invece l'informazione di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.